Non erano le montagne che ci dividevano, anzi era proprio il discorso di essere a cavallo delle montagne che ci univa. Sapere che qualcuno è in difficoltà in montagna, mobilità. Nel senso che è una sorta di dovere comune quello di intervenire. Come la solidarietà in mer Mediterranea, dove parliamo molto, perché c'è molti morti. Qui non c'è abbastanza morti, ma l'un è di troppo. Non c'è nessuno. On monte alla montagna e descendere fino a qui. Penso che sia lo che ha makingrano e abbiamo durato molto in il nese. No, 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 no